Buonasera e benvenuti a CoopTG, la rubrica quotidiana di Cooperativa Italia che vi segnala le notizie principali dal mondo della cooperazione e dintorni. Il CDA di CoopFond ha approvato le nuove regole di supporto finanziario per le startup cooperative. Nello specifico il regolamento si riferisce ai vincitori del bando Coop Startup e alle startup innovative iscritte al registro speciale della Camera di Commercio, se aderenti a Lega Coop. Viene confermato il contributo a fondo perduto di 5.000 euro per le spese di costituzione delle startup, mentre viene introdotto un moltiplicatore che va da un minimo del 100% ad un massimo del 175% in funzione del versamento effettuato dai soci e cooperatori. CoopFond ha firmato anche una convenzione con Banca Etica, che consentirà alle startup cooperative di accedere a forme di microcredito di massimo 25.000 euro o ad altri finanziamenti a medio termine. Le risorse messe a disposizione da CoopFond sono di 50.000 euro per le startup vincitrici di Coop Startup e di 100.000 euro per le startup innovative iscritte al registro speciale della Camera di Commercio. L'immigrazione è diventata ormai il tema principale del dibattito pubblico. Spesso però si parla di fenomeni migratori senza cognizione di causa, diffondendo notizie false e citando numeri inesatti. Per questo vi consigliamo di leggere il rapporto annuale 2016 sulle comunità migranti in Italia, elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il report diffonde i dati sulle 15 comunità migranti più numerose in Italia, analizzando le caratteristiche sociodemografiche di ogni nazionalità, la presenza di minori e i relativi percorsi di istruzione e formazione, oltre all'inserimento occupazionale e alle politiche di welfare e i vari processi di integrazione. Secondo i rapporti del Ministero, al 1 gennaio 2016 il principale motivo di ingresso del nostro Paese è il ricongiungimento familiare, che riguarda quasi il 45% del totale dei nuovi permessi di soggiorno rilasciati nel 2015. I titolari di permesso di soggiorno Unione Europea di lungo periodo sono invece il 60% del campione e di questi il 24% riguarda minori non accompagnati. Vi invitiamo dunque a leggere questi rapporti per farvi un'idea più chiara sul fenomeno migratorio nel nostro Paese. Negli ultimi giorni alcuni quotidiani nazionali hanno dato visibilità ad un progetto molto interessante sullo spreco alimentare, un tema tra l'altro che di grande attualità nel nostro Paese dopo l'approvazione della legge sullo spreco alimentare. Il progetto in questione è l'app Too Good To Go, un'applicazione nata in Danimarca e diffusa poi in altri Paesi come la Norvegia, la Germania e la Francia. Too Good To Go significa letteralmente troppo buono per essere buttato via. L'app infatti serve a commercializzare i prodotti invenduti dei ristoranti. Parliamo di veri e propri preparati di buonissima qualità che però il ristoratore non è riuscito a vendere. I commercianti iscritti all'app propongono un paniere pasto composto da prodotti invenduti. Il cliente acquisterà dei pasti a sorpresa in base a quello che non è stato venduto in quel determinato giorno e li comprerà a prezzi scontatissimi. Si tratta quindi di uno strumento molto efficace per la lotta allo spreco alimentare e che potrebbe diffondersi ulteriormente nei prossimi anni. C'è tempo fino al 16 febbraio per partecipare alla seconda edizione di Aviva Community Fund, un'iniziativa di Aviva Italia per premiare i progetti di utilità sociale. Possono partecipare all'iniziativa tutte le organizzazioni no profit attive da almeno un anno e che vogliono portare avanti un progetto che abbia un impatto positivo sulla comunità locale. Nello specifico i progetti devono rientrare in tre categorie. In campo per l'infanzia e per i giovani, sostegno alla salute e insieme per il territorio. Per ogni categoria il primo premio vincerà 15.000 euro, il secondo 7.500 e il terzo 5.000. Chiudiamo come sempre con gli appuntamenti. Lunedì 30 gennaio alle ore 9.30 presso l'Università di Torino si svolgerà l'evento dal titolo Servizio Civile Nazionale, un progetto di cittadinanza organizzato da Conf Cooperative Piemonte. Queste le notizie del giorno che trovate come sempre sul nostro sito cooperativaitalia.it. Vi diamo appuntamento a lunedì. Grazie. 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 Grazie a tutti.